in chat quando è che sono cambiato da un annetto capita che a far la battuta la gente mi dice mi racconti un aneddoto e io giustamente per cazzeggiare ma meno dice gente che tranquillamente mi segue e non ha mai avuto nemmeno una sospensione in vita sua sul mio canale e me la dice proprio la gente che mi stima mi racconti un tuo aneddoto e io lo racconto anche esagerando facendo cioè nel senso se poi uno mi vede e dice ok Don Vito TV è un coglione oppure Don Vito TV lo fa per far ridere io rido quando dice cazzare esatto ecco quando racconti un aneddoto ma è possibile che se racconti un aneddoto le vi dire no perché stavo lì non mi sa rizzato perché quella c'aveva la c***a piena dei peli poi ho scoperto che era no e quindi è per quello che non mi sa rizzato se tu dici cose del genere è normale che poi le usano contro di te cioè capisci qual è il problema cioè il fatto che poi si creano di dei trattori avviene perché sgravi cioè dici sempre cose grevi ma pure oggi hai detto cose grevi e sicuramente se qualcuno ributerà sta live e te farà un bel montage dove creerà altro odio vabbè la gente è stupida se vede quella cosa vabbè la gente nel senso tu devi scoprire tra Don Vito TV e a parte in primis la gente ha un qui nel senso se fa sta cosa qua e qui non ce l'ha Vito la gente cerca un capo espiatorio lascia stare qui la gente vuole mangiarti la faccia alle persone e tu gli dai sempre la possibilità di farlo eh pure tu ci hai mangiato pure la faccia oggi o no a chi? a me t'ho mangiato la faccia io nel senso pure tu con il giochino del cheese o non il cheese da parlare di bullismo siamo andati a parlare di cheese e non cheese vabbè che c'entra tu mi hai detto che riesci a capire quando una persona è cheese o no eh sì eppure io questo giochino e questo giochino tu me l'hai voluto far fare sì ma il problema non era il giochino e qual era il problema che ho detto che sono mi piace il cheese gender dimmi la cosa specifica che ho detto che io ho sbagliato e non la farò più dimmela che non ho capito qual è il punto se mi dici il punto specifico qual è la cosa specifica che non devo non so non so come cioè dovrei come te lo prendo il punto cioè letteralmente quasi tutto quello che hai detto è greve cioè come te lo dico perché mi rifiuterai tranquillamente a me senza offesa per gli omosessuali e per i trans a me i trans sessualmente parlando mi piacciono questo ho detto devo chiedere scusa e devo per forza mi deve piacere per forza un trans sessualmente posso essere amico sono amica sono amico con te e come sono amico con altri persone omosessuali o trans sessuali cioè non posso dire che a me i trans sessualmente non mi facciano non provo eccitazione o devo dire ok sono pro lgbt devo per forza fare le caculo e devo essere per forza anche uno di sinistra giusto per fare il che c'entra adesso che c'entra l'essere di sinistra la maggior parte delle persone sono così per fare il politicamente corretto perché stai perché devi buttate tutto sulla difensiva cioè invece di buttate sulla difensiva non puoi cercare di a quindi ho detto delle cose ok ho detto delle cose problematiche cosa di problematico nel senso che non della battuta del della cosa del freebooting che io non posso te ho detto di segnalare e tu non vuole segnalare perché non contro confronti non c'era nulla ma nei miei confronti sì cos'è che ho detto di problematico che mi piace la figa e non ho nessuna eccitazione come ho detto prima cioè nel senso con in con i trans cioè nel senso che cos'è che ho detto di problematico qual è l'orientamento sessuale delle persone a cui non piacciono le persone trans l'etero e quindi anche ho detto che sono etero perché sicuramente l'esessualità come anche agli omosessuali agli omosessuali non significa che se uno è omosessuale gli piace per forza un trans ci sono gli omosessuali che mi piacciono altri maschi e basta che non sono che non hanno non fanno operazioni non sono operati oppure in generale gli piacciono gli altri uomini ma addirittura certa gente omosessuali piacciono gli uomini pure biondi se lo trovano senza capello con i capelli mori non se lo prendono quindi ma è normale il mondo ha un gusto suo io sono etero e a me una donna anche se operata non mi piacerebbe ma devo dirlo per forza ok mi piacciono le donne operate ok facciamo un politicamente corretto e babù a me la tua sembra più una presa deposizione lo capisci questa deposizione di che cosa allora a me io sono venuto qua per parlare di buonismo se me ne ho messo se vengo preso per il culo ma questo fa parte ne fa parte vito prende per il culo la gente super etero vabbè ma non esistono i super etero ti sto prendendo per il culo adesso però io non ti sto prendendo in giro fida di vito se te volevo prendere in giro ti assicuro che ce n'ho avuta le occasioni per farlo in questa live ok invece sto cercando di tenderti la mano non che io abbia l'arroganza di doverti aiutare semplicemente stiamo parlando di bullismo e sto cercando di andare alla radice del problema in questo caso su internet ma te hai un atteggiamento ostile nei miei confronti cosa perché non posso pensare una cosa diversa ok da domani allora divento che so un pro di DLZAN ok domani devo iniziare a fare così di DLZAN qua di DLZAN di là perché devo fare Vito non sai neanche cos'è il DLZAN perché parli di cose che non sai perché perché quella persona che ti ha detto di non parlare che non devi parlare di politica secondo te te l'ha detto perché non la pensi come lui o perché probabilmente le politica non ci capisci in cazzo e quindi è meglio che non ne parli di sicuro meglio di lui ma va bene e che ne sai io sto qua nel senso per stare in compagnia cosa significa che cos'è il DLZAN stiamo in compagnia Vito ma la gente l'ha votato non sapendo cioè ha fatto di qua e di là non sapendo nemmeno loro che cazzo era quindi pure io se non so che era ma tu sei contro qualcosa che non sai cos'è non è che non sono contro nel senso io non sono in favore a determinate cose tipo? punto tipo? del tipo e se mi vuoi fare quella cosa contro del tipo che a scuola che cosa contro? stiamo parlando che a scuola c'è certa gente che vuole per forza imporre il no binari quelle cose là del tipo tu ma chi? certa gente, certi professori alle scuole elementari addirittura hanno fatto delle lezioni su dire eh ma tu se ti senti a un bimbo bimbo che può essere facilmente influenzato se ti senti femmina devi essere femmina se ti senti maschio devi essere maschio se ti senti un non so cosa quello è sbagliato questo non c'entra niente con il DLZAN Vito nei DLZAN ci sono un sacco di porcate che un altro po' nel senso cioè sembra una cosa al contrario tipo? e tante altre cose Vito elencamele queste porcate uffa che non posso nemmeno se sbaglio per sbaglio ti chiamo e ti do del tu in maschile per sbaglio sempre stupido non lo faccio poi si possa essere anche denunciato non è vero in certi casi è successo anche per l'Italia non è vero ma in Italia no non è questo non succede ma il fatto è che io sono venuto qua a parlare di bullismo mi trovo preso per il culo da te poi non è normale in che modo ti sto prendendo per il culo? che poi non è normale quando vanno da Greenbaum ti prendo per il culo Vito in che modo ti sto prendendo? Scusa ma te lo dico con il cuore scusa tu mi prendi per il culo a me e gli altri poi non ti possono prendere per il culo a te com'è il fatto? io sono qua a parlare di bullismo e mi ritrovo a fare sa cosa qua del cisgender di qua di là dei giochini io ci sto come scherzo ok finisce là ma tu mi stai incarando ancora di più la dose però io non vuoi che faccio battutine stupido ok tranquillamente non racconterò più che a me i trans non mi eccitano e che le donne le donne mi piacciono tutti i tipi di donne anche quelle con con che sono da M2F devo dire così per il gusto ipoliticamente corretto come vuoi tu o no? io sono venuto qua per stare in live con te a cazzeggiare ma non a farmi prendere per il culo e poi c'è la gente se vuole venire da me a guardare da un video tv che fa il cretino mentre fa il just chat attingo gioca ai videogiochi ben benca se faccio il cretino e faccio una battuta e la gente gli può dare fastidio come non gli può dare fastidio eh cioè nel senso a te non ti deve importare cioè io tu mi hai detto è quasi tutto qua lo sai di quasi tutto che ho detto di sbagliato in questa live che sono etero e per te etero significa che mi devo trombare per forza una donna che prima era uomo e alla figa di plastica tanto vale vado a comprare una flashlight e mi diverto di più e costa meno una flashlight che avere una donna che devo pagare pure il cibo ogni mese e portarla in giro ai ristoranti eccetera eccetera scusa quando vai una flashlight mi costa meno mi dispiace molto Vito io sono venuto qua per stare in compagnia e cazzeggiare con te cioè tu dici gli altri di qua di là pure tu mi prendi per il culo e a te ti devo mettere una blacklist a me dispiace veramente che tu non sia in grado di distinguere le persone che ti prendono per il culo dalle persone che cercano di aiutarti o quantomeno cercano di instaurare un dialogo avendo un tono così aggressivo e maleducato che ho sbagliato a me dispiace perché comunque io voglio sempre pensare che ci sia del marcio nelle persone e siano principalmente su internet propense sempre a cercare un capo espiatorio e che siano e tu ce l'hai qua e tu mi hai invitato per fare il capo espiatorio no Vito no Vito è se te che hai un atteggiamento veramente problematico e di cosa? chi è causa del suo mal Vito pianga se stesso io credo che sicuramente ci sono delle persone di merda su internet che fanno delle cose brutte nei tuoi confronti ma credo che la maggior parte delle cose che ti capitino siano meritate da te cioè le sei proprio cercate e questo come ti sei comportato questa sera ne è la testimonianza ok allora chiedo scusa non sono un gigaettro nel senso non mi deve piacere le donne stai continuando a missare il punto cioè io pensi che io sia qui per cercare di convertirti in qualche modo non lo so io ho iniziato subito a dirti che tu sei un uomo libero hai il diritto di andare a letto con chi vuoi senza essere giudicato e nonostante ti abbia detto questo continui a urlare nefandezze e deliri sulla sinistra di DL Zan io che ti prendo per il culo io non sono veramente allibita sono allibita cioè nel senso non mi aspettavo soprattutto che tirassi fuori la storia di Grimbaud e la paragonassi a come io mi sono comportata con te rispetto a quello che io ho ricevuto il trattamento che ho ricevuto nella chat di Grimbaud dicendo che me lo merito io penso che in realtà ti meriti quello che ti succede e mi dispiace perché speravo che potesse essere semplicemente un modo tuo di fare di corazza eccetera ma sei ingiustificabile sotto ogni punto di vista non posso innanzitutto non sono nessuno per doverti aiutare era semplicemente un mi dà fastidio le persone che vengono bullizzate essendo io stata bullizzata mi danno fastidio e bulli e quindi ho cercato di venirti incontro e di aiutarti su un argomento che a me sta a cuore ovvero il bullismo ti ho invitato stasera a parlare e mi hai accusata che ti ho preso in giro quando no no Vito non ti ho preso in giro sempre no stai qua non dovevo fare il gioco del cisgender ma qual è il problema di chiederti quali persone l'ho fatta a un sacco di persone quella roba lì ho chiesto a un sacco di persone secondo loro se queste persone fossero etero no questo mi viene a dire a fare il giochino la live è mia il tema principale è il bullismo ma se per me ti parlo un po' di quel cazzo che voglio se poi tu non vuoi rispondere non rispondi non è che tu vieni qui ah o parliamo di questo se no no è la mia live dove ti ho invitato si stai anche nella tua live perfetto ma io parlo un attimo e gestisco un po' la live come mi pare se tu lo trovi offensivo problematico me lo fai presente non rispondi no che prima stai e poi dopo cominci a lamentarti a fare la vittima cosa che a quanto pare è una delle cose su cui ti sei esercitato maggiormente negli ultimi tempi perché io vedo che tu invece di capire che sbagli ti vittimizzi e continui a pensare che tutto il mondo ce l'ha con te che la gente vuole convertirti che tu sei un povero una povera persona che non può avere le sue idee politiche quello quell'altro che non è perché la gente lo attacca no sei tu che ti vai a ficcare nel mare di merda in cui ti vai a nuotare tutti i giorni e una persona che cerca di renderti la mano la tratti a pesci in faccia in questo modo perché c'hai le maniere di persecuzione o non so che cazzo di problemi hai io con due domande te le farei in tutte queste live ho sbagliato tutto ho sbagliato di che cosa non puoi sbroccare così se una persona ti fa una critica mo ho sbagliato e forse potrei pure chiedere scusa ma non c'era chiedere scusa non c'è da chiedere scusa perché non stiamo qui a sentenziare ti sto spiegando questa cosa per farti capire dove sbagli di evitare che la gente ti rompa il cazzo non vieni qui a chiedere scusa alle persone che hai offeso non me ne frega un cazzo nessuno pretende delle scuse non siamo qui per questo non è un tribunale questo sto cercando di farti capire per farti capire cosa dici di problematico cioè la prossima volta mi sto zitto e non vado a nessun'altra parte ecco perché non mi piace andare vittima non mi piace andare in line vittimismo vittima di sto cazzo vittimismo di sto cazzo e vittimismo vai a fare il culo pure tu allora vittimismo non mi fa parlare mi piace cioè io sono venuto qua per stare in compagnia stai in compagnia ma non credo per come mi fai le cose e cosa hai fatto? che mi dici eh ma tu di qua sei tu che però in realtà cerchi di qua di là beh cosa spiegami te l'ho spiegato ma tu urli deliri che te lo spiegai? cosa che non posso dire cosa che devo spiegare? tu non sei incline non sei incline al dialogo capito? cioè tu sei solo sulla difesa sai fare solo quello stare sulla difesa avrai imparato solo quello che ti devo dire? non è un problema mio però non è certo che ti puoi sfogare su di me e non te lo permetto non mi sto sfogando ti sto chiedendo ma non l'hai fatto mi hai fatto incazzare è normale ti sei incazzare hai fatto tutto da solo tutto da solo di che cosa? tutto da solo hai fatto ti sei incazzato da solo se tu mi vieni a dire eh ma tu tutto ciò che hai detto è sbagliato minchia allora ok se tutto ciò che ho detto è sbagliato la gente penserà per quello che con il suo cervello non perché dici tu che ho sbagliato ho sbagliato a dire che sono ho sbagliato a dire che sono super etero? te lo devo riprendere che il super etero non esiste che sono etero? ho sbagliato a dire che sono etero? scusa quindi secondo te tutti i miei amici etero io gli dico che sbagliano e cos'è che ho sbagliato non me lo vuoi dire io sto cercando di parlare con te ma se tu ti approcci in questo modo è veramente complicato Anna puoi venire puoi venire un attimo puoi venire un attimo su Discord mi aiuti un secondo perché sto trovando delle difficoltà perché mi 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 da fastidio che vengo accusata di bullismo io che sto cercando di aiutare una persona e ripeto non in maniera tipo chi sei tu per dover aiutare una persona no semplicemente ho detto una cosa che mi dà fastidio è il bullismo ed essere accusata di bullismo quando io cerco di combattere il bullismo è una cosa che mi ferisce molto e io vedo tanta rabbia sicuramente e mi dispiace ma non puoi essere giustificato ogni volta solo perché hai tanta rabbia ok io non capisci non vuoi capire non ci arrivi sei stupido fai finta di essere stupido non lo so non lo so ma è semplicemente non ti lamentare se poi non non lo so non so che dire aspetto aspetto Anna perché qui mi pare che più parlo più peggioro le cose allora vai parla un attimo te perché io non so non so che dire mi sento molto ferita non ironicamente da questa cosa no no ma ha fatto la stessa cosa con me in passato tipo sei mesi fa cioè all'improvviso sbrocco fa così colì vittimizzazione e tu stai eroggiando un bulletto Vito 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 ma io io ti stavo ma la sciasta guarda Vito grazie già grazie Vito Vito tieni purtroppo questo bruttissimo vizio di andare in escandescenza di travisare completamente tutto quello che magari si costruisce durante una conversazione qualcosa non ti va bene boom scoppi poi ti vieni a chiedere perché per quale motivo le persone ti pigliano per il culo ma tu questo atteggiamento non lo cambia e non è giustificato eh chi ti piglia per il culo attenzione però tu questo atteggiamento manco lo cambi non ho capito cos'è che ho sbagliato in questa live hai sbagliato tutto ma cosa dimmi cosa ho sbagliato ma è l'ultima uscita che hai fatto scusami cioè no prima prima no no ma guarda che Abicocca si è mutolita da quando tu hai fatto questa uscita no da prima da quando tu hai iniziato ma voglio sapere cosa è che ho sbagliato cosa è che non ho detto cioè ho detto che sono etero e per me una donna una donna se non ha questo non è sei tu che vuoi far credere che questa è la cosa che hai sbagliato no hai sbagliato dimmi spiegami e te lo sto dicendo Vito si mi spiega ancora prima ancora prima mi hai detto che sto sbagliando Vito non prima dopo quando hai fatto la sbroccata quando hai iniziato a dire tutta la cosa posticcia qua vado a comprare quello che mi sembra di scopare la stessa cosa tutto quello che è venuto ancora prima mi hai detto che ho sbagliato no ancora prima mi hai detto che ho sbagliato già tutto ripetiti Vod l'ha detto che ho sbagliato da quando ho iniziato a parlare comunque ancora prima della sbroccata mi hai detto che ho sbagliato dovresti iniziare a non andare in scendescenza tu dovresti parlare perché tu di solito io tre volte alla Vito è così tre volte se io te lo dico per la prima volta non ho capito non ho capito cosa ho sbagliato mi incazzo ti ho detto cosa è prima che facevo la sclerata ha detto che hai sbagliato tutto ha detto e non dite di no c'è il VOD avete ancora prima della sclerata detto tu hai sbagliato di tutto ciò che hai detto in questa live sì sul DDL ZAN ci sono ovviamente delle fortissime imprecisioni Vito ancora questo è andato di fatto ancora prima ancora prima sono stato ma vedi ma è normale parlare con una persona non si può interagire con una persona che ti la contro però Vito non sai comunicare basta cioè tu urli contro le persone qua stiamo parlando normalmente tu urli contro ma che ti la lucca allora ci calmiamo oppure no si può parlare con tranquillità oppure dobbiamo fare le scimmie urlantrici te lo ripeto per l'ultima ed ennesima volta non tirate il mulino a vostro acquo l'acqua a vostro mulino di merda e ascoltatemi ho detto io sono stato mi ha detto a Bicocca ancora prima che facevo l'incazzatura e quella brutta cosa che ti ho detto su Grimwald e sul fatto del DDL ZAN ancora prima mi ha detto a Bicocca queste testuali parole c'è il dannato fottuto di VOD io lo scarico e lo metto pubblico domani su Youtube così almeno potete vedere che ancora prima di quella sbroccata ancora prima di dire ZAN mi ha detto hai sbagliato tutto ma sbagliato di tutto ma Vito ti posso fare una domanda che non c'entra ma tu secondo te ti vivi bene le live così cioè se tu arrivi al punto di allora se tu arrivi io non voglio andare più ospite da nessuno se la gente è come a Bicocca tu sei tu che ti inviti prima di tutto no mi ha invitato lei io tengo i messaggi se tu dici che c'è il VOD ti tengo i messaggi mettiamola così Vito cioè ma non ti vivi bene il contesto delle live su Instagram mi ha invitato lei oggi ma voi volete se c'è il Vito Vito il vostro mulino oh come cazzo funziona io sto parlando per me Vito io sto parlando per me tu non puoi parlare perché urli perché ti vivi male questo contesto veramente cioè tu non puoi andare ospite che alla fine se deve urlare pure se non si è d'accordo perché si deve andare in escandescenza e devi dire cose che mannaggia miseria sono problematiche che cose posticce quelle quell'altra la plastica ma perché perché sgrava così allora io ho sgravato perché la signorina Bicocca non mi vuole dire cose che ho sbagliato in precedenza io ho sclerato che ho fatto la battuta esagerata facendo la battuta solo la cosa della cosa di plastica ok ma se non mi dici in precedenza ancora prima che succedera tutto il suo casino cose che ho sbagliato grazie mille e non mi vuole dire cose che ho sbagliato ma secondo te è possibile parlare con una persona che si approccia così cioè secondo te questo ti sembra un dialogo civile cioè io posso parlare con te e spiegarti dove è sbagliato se tu urli come un pazzo se tu mi dici dall'inizio dove ho sbagliato non sei giustificato di reagire così e tu non mi vuoi dire cose che ho sbagliato non sei giustificato di reagire così ma puoi andartene quando te pare Vito puoi andartene anche adesso nessuno li sta costringendo a stare qui io ti ho invitato per parlare di una cosa la gente dice pavidio ma sono problemi tuoi poi di cosa dice la gente io ti sto dicendo tu te ne puoi andare quando vuoi anzi ti dico che mi sta dando anche fastidio questa roba qui perché poi sembra che io voglio spettacolarizzare sui problemi della gente quando il mio punto non era un po' l'hai fatto no hai fatto tutto te cazzo io stavo parlando io stavo parlando tranquillamente finché non hai sbroccato a me andava bene parlare perché parlare era una cosa che mi andava a rifare Vito mi devi far parlare però io stavo parlando e stavo cercando di aiutarti a cercare di capire una cosa qualcosa ti ha triggerato sei impazzito da quando sei impazzito io non voglio più continuare questa conversazione pubblicamente perché poi sembra ok sia a chi ci guarda che a te proprio l'aggettivo che mi si dice bulla proprio quello che ho fatto in questa live ma perché chiamare bulla proprio bulla no no proprio bulla e per fortuna che tu sei stato bullizzato e dovresti sapere che cosa sono i bulli io non ho capito perché si bulla ma è questo che mi ha detto per questo mi sono incassata vai chiedendo essere ospite perché ha subito del bullismo e chiamate bulla forse c'è un problema che messaggio vuoi lanciare Vito cioè io non ho capito perché è bulla a bicocca tutti i bulli so tutti i bulli perché pure io sono stata chiamata bulla da Vito tutti i bulli però gli stavo donando i beats cioè capii come aiuta a finire Vito perché tutti i bulli cioè rifletti solo su questa cosa allora il fatto è che le ho detto che è una bulla perché io gli ho detto già dall'inizio e non trovate la scusa del eh ma tu hai detto ancora prima ho detto che ho sbagliato tutto ancora prima che scleravo io in tranquillità gli ho detto questo precisare in continuazione la tua sessualità e quindi oh mio dio oh mio dio ho sbagliato a dire che sono etrosessuale e sono giga sono giga etero ancora vittimismo lo capisci la prossima volta non riesci a capire ancora non capisci non capisci vabbè ragazzi è inutile è inutile è inutile glielo spieghi dici non me lo stai spiegando glielo spieghi urla e cominci a fare la vittima scusa se ho detto direi ottima ottimo modo di comunicare Vito ripeto se rimani da solo non piangere e non accusare il mondo che è bullo verso di te allora io preferisco rimanere da solo che con la gente ma tranquillo che ci rimani così cioè perché è così se tratti la gente è così sicuramente tua madre perché tutto il resto delle persone se le tratti così caro Vito ho altra gente che mi vuole bene perché io ti ho detto qual è la cosa che ho sbagliato io ho cercato di sicuro e cominci a dire ah scusa allora scusa come faccio ad avere una conversazione con te come si fa ad avere una conversazione con una persona che si approccia così come come Vito come si fa ad avere una conversazione così ma tu ti rendi conto come ti rapporti con la gente guarda fai la scimmia poi te la menti perché tutti quanti fanno il freebooting ma te ne rendi conto che tu sei chi semina raccoglie chi semina vento raccoglie tempesta ma te ne rendi conto tu non sei vittima di niente Vito non sei una vittima del mondo lo capisci tu raccogli solo quello che semini in giro su internet questo succede la narrazione che ti racconti che tu sei una povera vittima che tutti ce l'hanno con te è una tua narrazione sta solo nella tua testa incomincia a prenderti le tue responsabilità comincia a comportarti comincia a saper comunicare con le persone se non sei in grado impara e non stare su internet perché ti distruggerai così allora guarda che se io no più che altro no non stare proprio però imparare a star c'è pure evita quelle cose il giga c'è basta questi strunzati da sedicenni vito ok poi sono realmente è diverso puoi essere migliore di questo questo è migliore di una donna vedi si strunzati vito ma nemmeno mio cugino da 14 anni che dita da nutel c'è vito dai stiamo parlando tra la mia era una battuta e non è contro si è sempre battute sempre battute vive di battute e di vittimismi è incredibile vedi io voglio venire da bicocca fino a poco tempo fa no guarda non mi interessa il tuo i tuoi sentimenti verso di me vito veramente ti puoi risparmiare guarda puoi tranquillamente odiarmi ma era nato quelli di ilio mi hanno detto ieri non mi interessa no ma non mi interessa perché sei no veramente una personamente molto sgradevole mi dispiace ho cercato ingenuamente ho cercato di fare qualcosa che pensavo potesse essere una cosa buona ok te sei rigirato contro come una iena e non sai distinguere le persone che ti odiano che ti vogliono fare del male con le persone che ti vogliono aiutare tutte persone che ti vogliono fare del male a meno che non ti succhiano il cazzo questo è un problema tuo questo è un problema tuo e ci farai conti poi con in futuro io la chiudo qui perché non mi va di continuare questo spettacolino veramente triste e cringe e ti assicuro Vito che se ti volevo bullizzare e ti volevo sfruttare sarebbe l'avrei mandato avanti altre quattro ore quattro ore quindi renditi conto tranquillamente renditi conto tu in è superiore a bicocca vai basta la vista vabbè Vito vabbè Vito c'è veramente proprio io non lo so non lo so veramente giungito che è di per sé un incubo ma questa questa chiusura è veramente ancora più dodici anni dodici anni non lo so mi farà brividire ancora di più di quella monnezza non lo so Vito noi stiamo in un anime dove ci sono le fazioni team vegeta team dragon ball la forza la potenza giga chad sigma male il mondo diviso il bene e il male bulli contro capi però lui combatte i bulli con la forza cioè tutte quelle cose un po' così nel suo mondo immaginario Vito tutto a posto e forse io poi seriamente mi chiedo ma il web quanto può fare bene ad una persona che se ne esce vabbè rivedere cioè tipo sedicenni tweener maggiore di abicocca vabbè no no vabbè ragazzi cioè nel senso poi si lamenta capito si lamenta che il poverino lo bullizzano ci fanno adesso uno che fa un freebooting su sta live lui appiagni capito poi viene da me e mi scrive mi aiuti a buttare giù un video che già che mi dici far buttare giù un video cioè sapete no io segnalazioni eccetera eccetera le faccio solo se sono veramente necessari cioè io ho ancora un video su internet un tizio disgustoso che ha che era denunciabile per la diffamazione che mi ha fatto e sta ancora lì quel video e questo piangie perché una persona gli fa freebooting o viene e si parla del bullismo che il povero Vito riceve ma se si esce da questa narrazione e si va sul Vito ma tu le responsabilità però di quello che fai te le prendi impazzisce non lo accetta perché si è spostato dal Vito che è la vittima del mondo al Vito che ha delle responsabilità di quello che dice e che fa non lo accetta mi accusa di bullismo mi insulta e se ne va ma soffre giù le carte sapessi quanto soffro io sapessi quanto soffre Anna vogliamo fare gara non è una giustificazione soffre pure Federica soffre un sacco potete capire quanto cazzo soffrimo potete capire potete capire le sbrattate le diarree che se famo la notte con la tachicardia col bullismo che ho ricevuto col bullismo che ho ricevuto col lavoro che faccio con le ondate di shitstorm che mi arrivano e a voglia quanto cazzo soffro quanto soffro eppure non mi permetto di comportarmi così non accetta la minima critica il problema è che è impazzito quando gli ho fatto una critica impazzito completamente cioè lui voleva che rimanesse tutto sul Vito è una vittima del mondo povero Vito solo per parlare delle domande seriamente solo del suo bullismo solo del bullismo che lui riceve basta se si vuole parlare poi ok le persone che cercano di buttarti giù il canale fanno cagare fanno vomitare fortunatamente sono una piccola percentuale e di quelle non c'ho niente a dire perché fanno schifo ma del resto sei sicuro che tu non abbia delle responsabilità su quello che ti succede pom impazzito perso la brocca completamente raga flippato completamente il cervello certo che c'è della sofferenza ovviamente non è che fa così perché è una persona cattiva è ovvio che c'è la sofferenza ma veramente non ci sta su internet non ci sta su internet perché non lo reggi non è che se uno tiene la sofferenza allora la deve addossare deve far soffrire altri deve reagire in quel modo qua ognuno tiene le proprie cruci veramente chiamarmi a me bulla ma io lo sai quanto cazzo ci potevo marciare su una live del genere ma lo sapete quanto cazzo ok ho fatto un po' lo sketch all'inizio ho fatto il disegnino ho fatto lo sketch ok perché stavamo facendo spettacolo in quel momento poi ho cominciato a fare la persona seria perché siamo passati dallo spettacolo a poi voler affrontare davvero che cos'è il bullismo e perché subisce bullismo io voglio vedere c'è una responsabilità che ti accogli ad esempio io ho dei detrattori ma parte dei detrattori che ho è sicuramente per il mio carattere che si è indurito con il tempo perché la difesa tutto quello che ti pare però comunque è anche parte cioè io ce l'ho delle responsabilità ok la gente è ingiusta il mondo è ingiusto e io subisco i trattamenti che non merito va bene però comunque delle responsabilità sul fatto che la gente ha un certo tipo di opinione di me ce l'ho le mie responsabilità su questo chiedo scusa ad Abicocca e ad Anna Manna purtroppo su come Abicocca mi stava spiegando una determinata determinata cosa non l'avevo capito non ce l'ho arrivato al punto la sua fanbase molti suoi fan in realtà però me l'hanno spiegato non so per quale motivo se riuscite a capirlo mentre me l'hanno scritto più che detta voce da Abicocca forse si sono spiegati meglio a scrivere che a parlare e quindi ho capito il mio errore su ciò che voleva dire Abicocca e da là farò meno il trollino e farò meno il chad ecco devo ringraziare però Abicocca perché mi sono venuti a dare fastidio cioè mi è venuta a dare fastidio una persona e la community di Abicocca anziché odiarmi è venuta a supportare e a proteggermi quindi cioè anziché odiarmi e andarmi contro hanno visto che stavo male per una cosa che sta succedendo in chat perché io me ne vado troppo facilmente nel panico e sono e mi hanno aiutato cioè nel senso anziché andarmi contro qualcuno si è pure abbonato nonostante io mi sia arrabbiato con Abicocca perché hanno capito dell'errore e spero Abicocca capisca e Anamana capisca del mio errore e accettino le mie scuse non volevo paragonarti Greenbound e ti chiedo per questo scusa umimmente scusa non volevo scusa se sei nominato lo youtuber che diciamo non hai buoni rapporti non volevo e quando sono arrabbiato dico cose che non dovrei dire ti chiedo di nuovo umimmente scusa e ringrazio la chat di Abicocca per essermi stato vicino mentre venivo venivo infastidito in chat ecco grazie a tutti chiedo scusa spero accetterete e vorrete accetterete le mie scuse grazie grazie